wow grazie per le caramelle mamma quando arrivi a casa non le fare vedere ad emily eh perchè? sai com'è fatta tua sorella quando vede le caramelle le vuole anche lei e poi litigate ok va bene siamo tornate ciao vado in bagno torno subito eh ci avete fatto? un giro e poi mamma mi ha comprato queste caramelle a qualma? per te niente sono io la preferita di mamma non è vero valentina si? che ti avevo detto? ah e poi mamma mi ha anche detto che non dovevo dirti niente era un segreto tra me e lei ops sta piangendo mi dispiace dai una caramella a tua sorella ok va bene tieni emily oh grazie ma non ti do un bel niente viziata sono mie mi ha anche mia grazie Grazie a tutti.